Come è noto ormai da tempo, la maggior parte dei progetti DeFi della finanza decentralizzata sono costruiti sulla rete Ethereum, pur offrendo un modo più innovativo di sviluppare nuovi casi d'uso per l'industria della tecnologia finanziaria, affronta un problema in termini di scalabilità e di velocità effettiva delle transazioni. Acala è stato concettualizzato intorno a questi problemi con un unico obiettivo, risolverli. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nel primo video dedicato alle parachain più promettenti dell'ecosistema Polkadot. Oggi parleremo di Acala Network, sarà un video piuttosto lungo ma anche molto completo, partiremo dalla storia di Acala, da dove è nata l'idea, adentrandoci sempre più a fondo nell'intero ecosistema, concludendo con le IPO, inizia il parachain offering e Karura, perciò sedetevi comodi e iniziamo. Dimenticavo ragazzi, prima di iniziare l'unica cosa che vi chiedo è che se avete piacere a guardare altri video come questo, allora vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanellina e di lasciare un mi piace per supportare il mio lavoro, grazie a tutti. Direi di partire appunto dalla storia di Acala, da dove è nata l'idea. Durante l'estate del 2020, l'introduzione del token compound ha scatenato la corsa alla finanza decentralizzata con milioni di investitori che si sono lanciati nel trarre vantaggio dai molteplici servizi offerti. Dopo compound, molti altri token hanno cercato di imitare il suo successo lanciandosi nel mondo DeFi. In molti ci sono riusciti, ma in molti altri no. Tuttavia, con l'aumentare dell'adozione e con la maggior parte dei token sulla loro blockchain, inizieranno ad emergere molte carenze e i primi problemi di scalabilità. Poiché una sola blockchain è in grado di gestire un limite massimo di transazioni al secondo, quando questo limite viene superato, la blockchain inizia ad affaticarsi, le transazioni in attesa iniziano ad accumularsi, si creano i famosi colli di bottiglia e aumentano notevolmente i costi di transazione. Tutto ciò avviene molto speso sulla blockchain di Ethereum che porta i prezzi del gas fee a livelli record. Difatti, dando una rapida occhiata alle migliori piattaforme DeFi su DeFi Pulse, si può facilmente vincere come tutti i progetti si basano su Ethereum. Sicuramente è l'ambiente più popolare per lo sviluppo delle blockchain, ma le modifiche al suo nucleo hanno effetti significativi su come vengono create le applicazioni decentralizzate d'apps. Possiamo dire che Ethereum offre una piattaforma che ti permette di fare qualsiasi cosa, ma non come vuoi farlo. Perché? Perché devi attenerti alle sue regole, come ad esempio lo standard RC20, il che probabilmente ha limitato i tipi di applicazioni che le comunità avrebbero potuto sviluppare negli anni. L'ascita di Polkadot direttamente tra le prime dieci criptovalute per capitalizzazione è stato senza precedenti ma ragionevole. È stata fondata dallo sviluppatore britannico il dottor Gavin Wood, cofondatore di Ethereum e inventore del linguaggio di programmazione Solidity. Wood ha visto la necessità di un'alternativa Ethereum che potesse scalare, portare la governance sulla catena, risolvere il problema sul gas e consentire il flusso di risorse attraverso la blockchain. Polkadot consente una rete di blockchain pubbliche, consorziate e private e consente una vera interoperabilità, scalabilità economica e transazionale. Ecco perché di fatti Akala ha scelto Polkadot come protocollo multichain integrato, il quale gli permette di scambiare informazioni con altre blockchain nell'ecosistema DeFi e gli consente di implementare dei bridge o anche detti ponti con ad esempio la blockchain di Bitcoin, migliorando così la velocità di transazione e l'efficienza complessiva in molte catene, in modo che anche i costi siano bassi. In realtà l'integrazione di Akala in Polkadot non è stata affatto casuale, anzi questo è il culmine di anni di esperienza, fiducia, sicurezza e sinergia tra il team dell'ecosistema Polkadot, Laminar e Polka Wallet e il supporto diretto del fondatore di Polkadot, il dottor Gavin Wood. Il team inizialmente era composto da tre membri brillanti tra cui Brian Chen che ha avuto l'opportunità di lavorare a stretto contatto con il dottor Gavin Wood, Fuyao Yang il fondatore di Polka Wallet e Ruitao Su il fondatore di Laminar. Si sono incontrati in Cina a Hongshon nel 2019 per iniziare lo sviluppo di Akala Network. Inoltre Akala è riuscita ad ottenere una cospicua sonvenzione dalla Web3 Foundation, un'organizzazione gestita da Gavin Wood che ha fornito al team il supporto finanziario e tecnico necessario. È anche sostenuta da ben 27 partner tra cui Pantera Capital, Coinbase Venture, Spartan e molte altre, le quali sonvenzioni sono state utilizzate per sviluppare la stablecoin di Akala, nota come Akala Dollar uno dei suoi principali punti di forza. Ma quindi cos'è Akala? Akala possiamo definirlo un consorzio finanziario decentralizzato unico nel suo genere con una visione, portare stabilità finanziaria, liquidità e accessibilità al mainstream. Ma perché possiamo definire Akala come un consorzio? Perché i fondatori ritengono che essendo Akala uno strato fondamentale dell'ecosistema DeFi di Polkadot, i protocolli non dovrebbero essere gestiti da una singola entità. Difatti stanno costruendo una rete stablecoin di proprietà della comunità in cui le parti interessate, gli utenti e i partecipanti saranno in grado di governare collettivamente le politiche monetarie fondamentali dell'ecosistema. Inoltre stanno ampliando l'adesione e invitando i partecipanti dell'ecosistema a unirsi al consorzio e al movimento verso una valuta veramente decentralizzata e di proprietà della comunità. Il token di Akala è ACA e svolge sostanzialmente due funzioni chiave. In primo luogo funge da utility token, ad esempio per pagare le commissioni di transazione, gli smart contract e molto altro. In secondo luogo invece funge da token di governance. Difatti i token ACA forniscono ai titolari il diritto al voto. Per chi se lo chiedeste non è ancora possibile acquistare il token ACA, tutte le monete che si spacciano di esserlo sono delle vere e proprie truffe. Verso la fine vi parlerò anche della IPO di Akala. La prima fornitura di token Akala sarà coniata al lancio della Minnet e archiviata nella ACA Reserve Pool per poi essere distribuita seguendo questi parametri. Il 20-25% sarà riservato al team di Akala, quindi neanche poi così tanto. Il 5% sarà riservato allo sviluppo dell'ecosistema, l'11,62% sarà riservato alla tesoreria, il 29,13% sarà distribuito agli investitori strategici e infine il 34% verrà distribuito come ricompensa ai partecipanti dell'IQ. Akala è stata sviluppata su due protocolli, il protocollo Stablecoin Onzone e il protocollo di liquidità OMA, i quali fungeranno da trampolino di lancio verso la stabilità e la liquidità come base per un futuro finanziario più libero e aperto per le masse. Direi innanzitutto di iniziare approfondendo il primo protocollo, il protocollo Stablecoin Onzone. Non vi spaventate dei termini perché andrò ad approfondirli successivamente. Allora, si tratta sostanzialmente di una Stablecoin multicollateralizzata, decentralizzata e crosschain alimentata dal protocollo Onzone che gli permette di creare una valuta solida e stabile per il trasferimento a basso costo e senza confini. Consentirà dei prestiti alle imprese con un rischio calcolabile e servirà come elemento costitutivo per servizi finanziari più aperti. Acala Dollar è stata costruita con Substrate per essere collegata alla rete Polkadot, in modo tale da avere la massima interoperabilità con tutte le reti dell'ecosistema. Quindi Acala Dollar è innanzitutto supportata da più garanzie. Le garanzie reali possono essere lo stesso DOT, il token nativo di Polkadot, che è crypto asset popolari come ad esempio Ethereum e Bitcoin, i quali mediante dei bridge, quindi dei ponti, possono comunicare con la rete Polkadot ed essere quindi utilizzati come garanzie reali per ottenere un tetto di approvvigionamento più elevato. Adesso vi spiego tutto nel dettaglio. Acala Dollar ha capacità cross-chain, Acala Dollar di fatti può essere trasferita a tutte le catene della rete. È sicuro, è protetto, di fatti Acala Network è protetto dal modello di sicurezza condiviso di Polkadot. Ciò consente agli sviluppatori di potersi concentrare direttamente sullo sviluppo senza doversi preoccupare della sicurezza. È di proprietà della comunità, i partecipanti alla rete Acala governeranno gradualmente e condivideranno collettivamente i guadagni della rete aggiungendo in ultima analisi una vera e propria resistenza al decentramento e alla censura. È una stablecoin specializzata, questo è molto particolare. Allora Acala Network sarà in grado di personalizzare il suo programma di commissioni, ad esempio il trasferimento gratuito del saldo, che migliorerebbe enormemente l'usabilità mantenendo comunque la sicurezza alla rete. Di fatto a differenza di Ethereum che richiede che le commissioni sul gas siano pagate in Ether, Acala consente a qualsiasi blockchain di partecipare e pagare le commissioni di transazioni in qualsiasi valuta, in ciò che il team definisce Bring Your Own Gas, ovvero tradotto in italiano, porta il tuo gas. In questo modo si avrà una velocità di transazione molto superiore ed un costo nettamente inferiore. E infine è sempre all'avanguardia, Acala Network essendo stata costruita con Substrate la rende resiliente e in grado di adattarsi senza un fork. Ciò significa che in futuro se si vorrà integrare un nuovo prodotto, una nuova funzionalità, insomma una nuova miglioria, lo si potrà fare senza alcun problema. È come ad esempio avere un iPhone 12 e poterlo aggiornare alla versione successiva senza dover cambiare il cellulare. Quindi lo puoi praticamente aggiornare ad iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 senza dover cambiare il cellulare. Il che rende tutto ciò Acala Network molto flessibile, a prova di futuro è molto resiliente. Acala Dollar è agganciata al dollaro con un rapporto 1 a 1. Ciò significa che per ogni Acala Dollar emesso c'è un dollaro statunitense come copertura. Adesso fate attenzione perché questo sostanzialmente è il focus centrale del protocollo Onzone e andrò ad appunto approfondire determinati concetti che prima magari potevano essere poco chiari. Essenzialmente gli utenti hanno la possibilità di chiedere un prestito in Acala Dollar bloccando determinati asset come garanzia, ad esempio Bitcoin, Ethereum, DOT, i quali dovranno però pagare un interesse per mantenere questo prestito. Il protocollo Onzone attua una serie di meccanismi per mantenere la stabilità e gestire i rischi derivanti dalla fluttuazione dei prezzi del collaterale sottostante, quindi come abbiamo detto DOT, Ethereum, Bitcoin e molte altre. Un concetto molto importante del protocollo Onzone sono i CDP, opposizione sul debito collateralizzato. Il design del meccanismo CDP si ispira al primo progetto stablecoin decentralizzato MakerDAO. Ma cosa sono e come funzionano? Ad esempio nel sistema MakerDAO gli utenti possono creare CDP e bloccare Ethereum come garanzia. In questo modo gli utenti possono generare DAI, la stablecoin decentralizzata di MakerDAO, fino a due terzi del valore di Ethereum bloccato. Il DAI generato funge da debito mentre il collaterale rimane bloccato nei contratti intelligenti di MakerDAO, fino a quando il proprietario del CDP non rimborsa il debito o si verifica una liquidazione. In parole povere, un CDP è un sistema di contratti intelligenti che blocca garanzie reali come ad esempio per MakerDAO e Ethereum e genera stablecoin DAI. Quindi le DAI che generi essenzialmente sono un prestito supportato dal valore collaterale dei tuoi Ethereum bloccati, il quale valore deve essere sempre superiore al 150% della quantità di DAI generata. Altrimenti gli Ethereum bloccati verranno venduti a mercato per ripagare innanzitutto l'importo di DAI generato. Gli interessi maturati che si aggirano intorno al 10,5% annui è la penalità di liquidazione che ammonta al 13% circa. Adesso, ritornando ad Acala, il funzionamento è simile, ma a differenza di Ethereum, dove è necessario un liquidatore esterno per monitorare e chiudere le posizioni a rischio, il che in genere è dovuto alle limitazioni di Ethereum, il protocollo Onzone è in grado di utilizzare un sistema off-chain che consiste in un servizio di pianificazione automatico unico per Substrate, il quale permette di automatizzare questo processo per aumentare intrinsecamente la sua sicurezza, la stabilità della stablecoin e la reattività del sistema. Per creare un CDP su Acala, dobbiamo in primo luogo inviare una richiesta al protocollo Onzone e depositare l'asset criptografico che verrà bloccato come garanzia, quindi sarà il nostro collaterale. In secondo luogo dobbiamo inviare una richiesta di prestito dell'importo desiderato, limitato ovviamente in base alla quantità di collaterale depositato, cioè se ho depositato 1000$ di controvalore in Bitcoin non potrò chiedere un prestito di 50.000$. Accettata la nostra richiesta, il protocollo Onzone bloccherà l'asset depositato e conierà gli Acala dollar richiesti, di conseguenza segnerebbe lo stesso importo di debito nel CDP. Fino a quando non verrà saldato questo debito, il collaterale bloccato non potrà essere rilasciato. Se successivamente invece vorremmo chiudere il nostro CDP e riottenere appunto il collaterale bloccato, dovremo saldare il debito, più un'ulteriore commissione di stabilità, la quale potrà essere pagata direttamente in token ACA o nella stablecoin Acala dollar. Quindi dopo aver inviato gli Acala dollar e la quota di stabilità, il debito sarà saldato e potremo nuovamente recuperare il collaterale bloccato e il CDP verrà definitivamente chiuso dal protocollo Onzone. Quindi questo è come funziona il protocollo Onzone e la creazione di un CDP. Adesso passiamo al protocollo di liquidità per lo staking OMA. Il compito del protocollo OMA è quello di risolvere il problema dell'illiquidità degli asset quotati e la soluzione che ho trovato è davvero ingegnosa. Difatti il protocollo OMA stabilisce una pool di staking che tokenizza le risorse puntate come L-asset. Ad esempio se io dovessi bloccare dei DOT ne otterrei dei token L-dot che sta per liquidity DOT che posso utilizzare in altre applicazioni, ad esempio guadagnare degli interessi o utilizzarlo come garanzia per ottenere appunto degli Acala dollar, quindi per il protocollo Onzone e la creazione di un CDP. Quindi il protocollo OMA tokenizza i nostri DOT in liquidity DOT. L-dot innanzitutto è tradabile e liquido in tutte le catene sulla rete Polkadot. È riscattabile per riottenere DOT in qualsiasi momento, quindi non abbiamo periodi di sblocco, permettono di partecipare alla governance on-chain e infine permettono uno staking strategico regolato algoritmicamente, ad esempio va a svolgere la funzione automatica per la selezione dei validatori in base ai tempi di attività per ottenere dei rendimenti ottimizzati e garantire liquidità. Perciò il protocollo OMA appunto risiede nella rete di Acala e stabilisce una pool di staking decentralizzata in cui gli utenti bloccheranno il loro DOT o altri asset per ottenere un interesse. È un token liquido, ad esempio L-dot, che fungerà diciamo come ricevuta liquida e negoziabile. Quindi riassumendo molto velocemente i due principali protocolli della rete Acala sono innanzitutto il protocollo Onzone che consente agli utenti di effettuare depositi per la creazione di posizioni sul debito collateralizzato o CDP, i quali possono essere utilizzati per richiedere dei prestiti in Acala dollar o essere spesi attraverso reti diverse purché collegate alla catena Polkadot. E infine abbiamo il protocollo OMA che consente il meccanismo di staking di Acala, ovvero ad esempio lo scambio di token DOT in liquidity DOT che funge da token di liquidità alla rete utilizzabile attraverso appunto la catena. Adesso veniamo all'offerta iniziale di parachain di Acala, quindi la IPO. Esistono sostanzialmente tre modi per poter partecipare alla rete Polkadot. Come parachain, come paratread o tramite dei contratti intelligenti su una parachain o su un paratread, i quali permettono di sfruttare la sicurezza della rete Polkadot. L'opzione ideale per Acala sarebbe diventare appunto una parachain in modo da massimizzare i suoi vantaggi e raggiungere altre catene e applicazioni della rete Polkadot. Per garantirsi uno slot parachain, la rete Acala richiederà ai possessori di DOT di bloccare il loro DOT per fare un'offerta collettiva. Se l'asta si concluderà con successo, i token ACA verranno distribuiti come premio ai proprietari dei DOT bloccati che hanno appunto partecipato con successo all'asta. L'obiettivo del team di Acala è quello di affittare lo slot parachain per ben tre round, quindi sei anni. Vi ricordo che ogni round ha la durata di 24 mesi. Alla fine di questi sei anni l'intenzione è quella di passare ad essere una blockchain completamente indipendente da Polkadot. Nel caso non dovessero aggiudicarsi l'asta, ve lo dico per me molto improbabile, lanceranno la loro minnet su un paratread e i DOT raccolti nell'IPO verranno immediatamente restituiti ai loro proprietari, mentre i token ACA verranno coniati al momento del lancio, ma saranno distribuiti soltanto ai fondatori di Acala e ai partner che hanno sonvenzionato il progetto, mentre il resto sarà riservato a future opportunità di investimento, tra cui la IPO per la seconda asta parachain. E adesso la domanda delle domande. Quando inizieranno le aste parachain? Purtroppo non è ancora possibile saperlo, ma si stima verso maggio o giugno. In ogni caso, se non si vuole aspettare così tanto tempo, c'è un'alternativa. E questa alternativa è Karura. Come Polkadot riceverà Acala come Hub DeFi, è giusto che anche Kusama meriti lo stesso. Difatti Karura sarà l'Hub DeFi su Kusama. Possiamo definire Karura come la rete sorella di Acala, tant'è che sono state entrambe sviluppate con lo stesso codice. La differenza sostanziale è la blockchain di destinazione, Acala su Polkadot e Karura su Kusama. Ma perché con Karura bisogna aspettare meno tempo rispetto ad Acala? Poiché al momento è già possibile entrare in lista d'attesa per poter partecipare successivamente al crawl on. Il funzionamento sarà molto simile a quello su Acala, quindi se siete possessori di Kusama e avete intenzione di partecipare, dovrete bloccare i vostri Kusama per un periodo di tempo che può variare dai 6 mesi fino ai 24 mesi per aiutare Karura a nolleggiare uno slot da cui ottenere l'accesso alla sicurezza plug and play di Kusama. In cambio, come ricompensa, otterrete dei token CAR, che sono appunto il token nativo di Karura. Il rapporto di CAR che otterrete come ricompensa per ogni Kusama bloccato non è stato ancora definito. Quel che sappiamo al momento è che dipenderà soprattutto dal periodo di leasing, quindi sostanzialmente dal periodo di blocco dei nostri Kusama. Maggiore sarà il periodo e il tempo di blocco, maggiore sarà la ricompensa che potremo ottenere. Per ora Polkadot e Kusama opereranno fianco a fianco e così faranno rispettivamente Acala e Karura. Il futuro della piattaforma è che i due sistemi interagiscono tra di loro e diventino interoperabili l'uno con l'altro. In conclusione ragazzi, Acala funziona su un modello fondamentalmente diverso da Ethereum che è più inclusivo e vantaggioso, sia per gli sviluppatori che per gli utenti finali. Il loro obiettivo quindi non è quello di ridistribuire Ethereum su Polkadot, ma creare un ambiente favorevole all'innovazione cross-chain e alle interazioni tra applicazioni distribuite, oltre alle blockchain interoperabili. Quindi ragazzi, io mi fermo qui per oggi, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi possa essere utile. Ne parleremo ancora ovviamente di Acala, non è finito qui perché c'è veramente tanto tanto di cui parlare, però con questo video vi ho già dato, almeno mi auguro, un'infarinatura generale su quel che è e sarà Acala. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, un commento e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!